Questo che vedete alle mie spalle è il campo sportivo della ferrovia, una delle strutture sportive abbandonate della nostra città. Solo una decina di anni fa questo luogo pulsava di giovani e bambini e un dovere assoluto recuperare strutture di questo tipo e restituirle vitali alla comunità, affinché le nuove generazioni siano avviate ad una socializzazione positiva. Prima che questo spazio cedesse il passo all'incuria, era animato da un grande protagonista della vita di giovani calciatori tolti dalla strada e portati su un campo di calcio, Ciro Margiotta. Una volta ristrutturato, questo stadio dovrà essere intitolato a lui per ricordare gli eroi buoni e normali di una stagione non molto lontana in cui lo sport rappresentava una sana evoluzione della vita da strada. Proporrò che le società che andranno a gestire strutture di questo tipo garantiscano una quota importante di iscrizioni e ingressi gratuiti per i ragazzi le cui famiglie hanno meno disponibilità da dedicare all'attività sportiva. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.